Sul tavolo della discussione ormai da tempo c'è il progetto di ristrutturazione della cosiddetta geografia diocesana, dopo che Papa Francesco ha espresso esplicitamente l'invito a una revisione della stessa, attraverso accorpamenti. Compito che spetta alla conferenza episcopale italiana e l'Umbria, con le sue otto diocesi, sembra essere chiaramente nel mirino. La scadenza temuta per la diocesi agubina è l'anno prossimo, quando il vescovo Ceccobelli dovrebbe lasciare la guida per raggiunti limiti di età. Intanto, tra le ipotesi allo studio, c'è l'intervento proprio di Papa Francesco, che potrebbe fare di Assisi una prelatura territoriale sul modello di Loreto, con Gubbio che amplierebbe i propri confini, così da girare i parametri di dimensione e popolazione che attualmente sembrerebbero non deporre per il mantenimento. Era stato l'arcivescovo di Perugia, Cardinal Gualtiero Bassetti, in occasione della nomina vescova ausiliare del suo vicario Paolo Giulietti, a indicare la volontà di Papa Francesco di procedere con gli accorpamenti. Proprio dal porporato, presente domenica scorsa a Gubbio, in occasione del premio Bandiera, arriva l'invito all'ottimismo, sulla base anche dello straordinario legame dei fedeli eugubini con il proprio patrono, Santubaldo. In questo afflato corale, i fedeli della diocesi eugubina sperano anche ci possano essere le premesse per una continuazione della diocesi, perché si sa che il futuro non è pieno di certezze. Lei che cosa ci può dire? Mentre sentivo le relazioni, scorrevano le immagini, pensavo la stessa cosa. Possiamo essere ottimisti? Chissà. Ma io dico di sì, sono sempre stato un uomo ottimista. Qualche piccola delusione l'ho avuto, ma il più delle volte l'ottimismo non è qualcosa di superficiale, è un'intuizione.